fai talone no 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 talone no 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 questo va talone oh e vai dall'altra parte stop vai 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 di là ah stop metti troppo lontano stai avvicinati alza questo ginocchio su adesso vedi differenza differenza vedi questo è quello che tu fai da solo avvicinano molto di più oh e adesso fai e fai 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 piega piega meno piega 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 con il culo deve andare verso il mio culo piega bene e adesso fai 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 altri talone talone del giro ah si vedi una cosa questo è quello che tu fai da solo vedi io specialmente ti ho dato una informazione in plus perché volevo che tu dimentichi quello che abbiamo cominciato a fare questo non era questo quello di prima questo primo no prima era così no 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 si di là talone mi interessa solo talone oh basta questo era obiettivo noi chiudiamo ginocchio per talone mediti giù guarda vedi direi la base è molto più vicina a me bam bam io sono qui vedi ok 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 aspetta 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 alzati per vedere ginocchio dinocchio prego un cazzo va proprio Io sento il piacere di presa e non posso lasciarti perché sento questo piacere di presa. Eh no, così ma faccio niente che dico. No, perché non lo fai? Basta, ce l'hai, super. Aspetta, basta che devi coprire. No, basta. Uh, 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 uh. Copri, copri. No, ma dicevo di... E questo fuori. Avanti. Vai. Fuori, 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 fuori. Eh, oh, basta. Ah, ok. Che cazzo, sempre stai dimenticando. No, questo mai fa dove ho? Come no? No, questo qua di braccio con gamba. Come no, guarda, se mi siedo adesso basta. Questo devi metterli. Eh, cazzo. Questo ho sempre voluto fare, non mi metterà fissera la dotta, non mai. Eh, no. Hai capito? No, 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 fai. Eh, sì. No, vedi il genocchio? Aspetta, aspetta, aspetta. Vedi, sai perché perché tu vuoi rimanere, senza forza. Invece con questa gamba tu devi fare un passo indietro proprio. Ah, ok. Perché non li hai? Non vuoi che sti rigalano, rigalano. Fai, fai un passo ancora molto più lontano. E qui, qui, qui devi fare un passo. Quasi qui. Oh, vedi? Vai. La spalla destra. Però, vedi? Non vuoi fare un po' di piedi. Provare e controllare, vedi? Biamo, abbiamo, perché parla. Ah, sì. Da me, non so perché ho otto. Sai perché? Di lungo. Sai perché non va? Perché è tanto flessibile la gamba. E di là che non fa. Quindi, la gamba flessibile. O forse perché ti venga. Oh. Mi siete a fine. No, ti fai di qua. Da, stop, stop. Da, mamma mia. Di là. Ti fai di là. 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 Puoi, puoi anche girare. Complicemente, sento a quanto che fai, fai, fai. Oh, da questo momento, quando io sono giù. È impossibile per te. Vai. No, è bene. Ah, stop. Bene, bene. Perché sono chiuso con il tuo corpo. È impossibile per te. È impossibile, però è difficile. Non c'è, non c'è impossibilità. C'è, ci sono. Ma se ti lascia possibilità, se non ti lascia possibilità, senza possibilità. No, ci sono persone che lasciano la gamba. Sono anche gamba. E lui non fa così. Ciccene, russi, prova a fare questa cosa. Ti ha, durante i due anni, giovani, preparati. Tu rompi, oh, rompi, 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 legamenti, tutto, cazzo. Lui non ti fa così. Si alza in una gamba. E sa cosa vuoi fare. E lui una gamba sarà scognitata, con altre due braccia, una gamba, lui ti attaccherà. E poi magari anche vincerà. Io ti dico, che ho visto tanti cose. Il mio amico rossa legamenti andava 16-17 mesi. Contro l'Ucraina. Rebac. Il mio amico rossa.